Da uccellino a carabiniere, da pinocchio a pagnotta, mille sono le forme che il ceramista estense Lino Durlo dà alle sue ocarine. Pezzi unici, forgiati con sapiente maestria da almeno 30 anni che ha permesso all'83enne ceramista di vincere la prima biennale del fischietto in terracotta, città di Matera. Un'arte che però rimane pura passione se non fosse per l'associazione Artificio presso Usate Rarità del maestro Roberto Bevilacqua che si è preso carico di valorizzarla. Una volta venuti a sapere casualmente che produceva queste ocarine, l'artificio si è impegnato anche economicamente per acquistarle tutte quante e poterne fare una mostra, un'esposizione itinerante che è a disposizione di tutti i siti culturali e istituzioni culturali pubbliche e private che la richiedessero all'artificio e che la trovano sul sito di Usate Rarità. L'artificio si è prefisso l'obiettivo di portare a contatto le persone che vogliono partecipare a tutte le manifestazioni, a contatto stretto con l'artista. Qui sono venuti personaggi importantissimi, grandi musicisti, grandi pittori, grandi scultori, è venuto Lino Durlo con le sue ocarine e sono sempre stati questi artisti in mezzo alla gente. Con una bicchierata culturale offerta da Moira Facciolo di Usate Rarità, questi artisti hanno fatto crescere le persone che hanno partecipato alle manifestazioni e hanno fatto crescere anche l'artista che si è misurato con un pubblico a stretto contatto e non sopra un palco. L'ocarina è uno strumento musicale italiano che deve il suo nome alla forma ovoidale allungata che ricorda il profilo di un'occa privata della testa e l'Associazione Artificio, in collaborazione con il Comune di Este, ha predisposto una teca presso il municipio dove verranno esposte le opere di Lino Durlo. L'amministrazione ha preso atto di questa straordinaria presenza umana e di questo valore straordinario che quest'uomo fa, ha assieme a Usate Rarità individuato una vetrinetta espositiva per questi prodotti all'interno dell'ufficio turistico. Pertanto i visitatori potranno gustare il piacere di queste proposte che sono proposte che incontrano i nostri ricordi ma incontrano anche il piacere di vedere lavorare manualmente la ceramica in modo tradizionale. Un modo per non perdere le eccellenze artigiane del territorio estense, famoso per le pregiate ceramiche.